Approvata dal governo Musumeci nel corso dell'ultima seduta dell'Aggiunta regionale, la proroga di 36 mesi dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa di Gela. Tenuto conto che la situazione di crisi nell'area permane anche in seguito alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, spiega l'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, era indispensabile per il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione tornare a sostenere gli investimenti nel territorio gelese, facendo ricorso alla dotazione finanziaria residua e prorogare di 36 mesi i termini finali dell'accordo di programma sottoscritto nel 2018. La proroga dell'accordo, che era stato sottoscritto tra Mise e Ampal, l'allora Ministero dell'Ambiente, il Ministro delle Infrastrutture e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela, Invitale e la Regione Siciliana, sblocca di fatto le risorse ancora disponibili per l'area di crisi complessa di Gela, 21 milioni e 900 mila euro, di cui 11 milioni e 900 mila euro di fondi del Mise e 10 milioni di confidanziamento della Regione.